Momenti di grande emozione a Taranto per ricordare Federica De Luca, arbitro di volley, e suo figlio Andrea, entrambi vittime di violenza. Alla Palafium di Taranto un minuto di silenzio prima della gara casalinga della RD Volley Taranto, un momento dedicato alla memoria di Federica e Andrea. I ragazzi dell'Istituto Frascolla di San Vito, coordinati dalle loro insegnante, presenti all'interno della struttura sportiva tarantina per un flash mob in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E' esposto anche uno striscione dedicato. Il pubblico ha partecipato attivamente a questo momento suggestivo, assistendo e facendo proprio il messaggio che i ragazzi con una semplice esibizione hanno inteso trasmettere tra i presenti anche il padre di Federica De Luca. E' la conclusione della settimana di Federica che cade proprio nel giorno dedicato alla lotta alla violenza sulle donne. La federazione ha dedicato tutta una settimana e questo è l'epilogo di tutta questa settimana dedicata a loro, sperando che ci sia una volontà di tutti quanti a che questa lotta sia veramente di tutti quanti. Grazie Grazie Grazie